oee bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xyuder e ragazzi per tutti quelli che stanno seguendo i miei video news e che hanno visto anche il news di questa mattina c'è l'aggiornamento del concerto di travis scott o scott trevis ho mai capito come caspita si chiama da quanto mi dicono i ragazzi in chat in questo momento in live ovviamente su twitch sembrerebbe che dove c'è il calavacca dalala guarda la la guarda la la c'è qualche cosa la nel cielo por caccia la por caccia la por caccia sembrerebbe che la navicella di scott dodo e cavolo guarda la la guarda adesso andiamo nel replay adesso andiamo c'è una roba c'è una roba c'è un punto c'è un punto luminoso c'è un punto super luminoso direi che la cosa migliore per cercare di andare a vedere la la navicellazza che rimane molto a est della mappa è quella di aspettare che l'autobus mi porti il più possibile in fondo quittare la partita e ci andiamo violentemente a zoomare sopra con il con il drone nella modalità replay quindi qualcosa la c'è ragazzi abbandono un attimo la partita io abbandono intanto ditemi se siete in hype per il concerto di scott travis scrivetelo ovviamente qua sotto nei commenti e noi facciamo carriera replay e andiamo a vedere subito porca vaca c'è il c'è il punto c'è il punto c'è il punto viola c'è un punto viola questa cosa è molto andiamo a vedere allora da qua andiamo verso la fine easy sì però dai sì però dai non renderizza non renderizza non renderizza eccolo è ha fatto un attimo questo drone libero andiamo andiamo con il drone vediamo togliamo intanto tutta la roba che mi dà fastidio guarda la guarda la guarda la sta scendendo qualche cosa sta scendendo qualche cosa intanto il drone continua a muoversi quindi cercherei di raggiungere il più possibile ci alziamo ovviamente cercherei di raggiungere il più possibile la l'altezza massima con il drone se guardate in basso a destra noterete che sta uscendo più di così non va non mi posso neanche alzare e sono al massimo dello zoom beh ragazzi è palese che qualcosa la c'è porcaccia la porcaccia ed è proprio qualcosa relativo a scott travis ovviamente vi terrò in aggiornamento dategli un'occhiata anche a voi se vi interessa vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando è lasciate un bel like iscrivetevi ai miei canali e mi trovate adesso proprio in live su twitch ciao 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 ciao